Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di questa nuova serie Siamo in single player Come vedete ho le nuove cuffie Sono le GXD della Trust Spero che c'è il sito anche surreal, sono troppo comode però i miei orecchie Comunque ho la Faithful, mettiamo il Seed Grandpa Abilità trucchia, si sono un cittone, cassa bonus, si sono un cittone E questo, fatto Quindi chiamiamo il mondo, mondo serie U2 Crea il nuovo mondo e speriamo che ci capiti un bel biome Mi stanno scoppiando le orecchie Ok, bellissima pianura Pianura, oh si cassa Oh subito, oh ascia in pietra Subito un villaggio Prendi la cassa Prendi le torce Giocheremo in facile Perché normale non mi va Prendiamo un po' di linea dalla giungla Dopo prenderemo tutte le essenziali Ok Prendiamo altro legno Tanto per C'è tanto per che ci serve poi lo legno Inizio a registrare con questo Con questo microfono Una nuova serie, single player Eh perché così, non so perché Però perché preciso, un po' po' non lo so Un po' po' Oh Domenico aveva da vedere i film di Alessandro Siani Oh si, si Siamo anche Con lascio Si vabbè ci metteranno No mi serve la sua pelle Ok Ok Ho posto per ora Facciamoci un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Ok Ok Cominciamo La musica Con la musica No Ok Facciamo il classico buchetto Eh Il buchetto 2 3 Aspetta un attimo Ah Oh cazzo Ok Salgo un attimo Io continuo a sentire la musica in Minecraft Bravo Così posso fare finalmente la serie multiplayer Finché non mi faranno il server Sempre Sempre Stoppo un attimo Ok Eccomi Sono andato un attimo a mangiare Ehm 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 Mangiare Oh oh Caccare Oh 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 Ehm Il blu Dipinto di blu Felice Lui savo lassù E volare 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 Felice nel colpo Su E cantare Cantare Negli occhi più blu Una musica Ehm Ehm Ah vi dirò Allora Se volete Che faccia Una serie Multiplayer Oppure Una serie Su come installare No Quella no Non so fare questo Oppure C'è In questa serie Metterò qualche hack Tipo L'X-Ray Se volete Ditemelo Ma pensate no C'è la serie Multiplayer Forse Ma I hack No Come vedete Non ho L'H C'è Per avere La Ries Non ma Bisogna C'è Pone Vabbè Premela X Allora Ries Non ma Vedete C'è il villaggio Io lo so Che c'è un villaggio Siamo sponati Nell'isola Che Possiamo Anche Ries Allire Farci Una bella Spadicola Una Una Mucca Vieni Bu Comunque Non Proprio Tutti Muori Tu sei Che Tu Ok Wow Doppia kill Punti per due Ancora Punti per due Mamma mia Vediamo tutte le frecce C'è una mucca là Muori mucca si Ok Boom 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 E' il classico villaggetto Dai Dai Dice così E' il classico villaggetto Dai Non contesting Inguetemi Dai Porca merda Ehm Questo video Lo farò corto Perché Oh maiale Un porco Porco maiale Questa che ci dà Niente di cosa Questo No Porco maiale C'era un maiale Fino Vabbè andiamo a cittare La città Lo so che sto morendo di fame Quindi fa più Cos'è Una giungla Una giungla Si Oh Spacca Mi sono appena accorto che Frappes non stava registrando mondo e quindi non poter di che ho messo solo a cuocere colline la carne questo non serve questo sì forse sì vabbè ma dai tre questione questione io ci sto capito chi è? se lo sce no quante quante quattro ma sei impallita tu sei impallita tu sei impallita tu sei impallita tu sei oh che bella mamma mamma ok per questo episodio è tutto ciao a tutti qui che